Giuseppe Meloni, prima gara con l'Amonese, primo gol, qualificazione, il massimo per voi, siete contenti? Assolutamente sì, abbiamo fatto il massimo per questa partita dove non era facile, una squadra molto ben piazzata e soprattutto un caldo allucinante all'inizio. Siamo stati molto bravi, concentrati, anche se qualcosa l'abbiamo un po' concessa, soprattutto nei primi minuti. Sono contento per il gol perché sbloccarsi subito fa sempre bene, poi per la maglia della mia città ancora meglio. Dobbiamo continuare così, migliorarci assolutamente perché il campionato è tutta un'altra cosa. Con un primo tempo un po' attendista dell'Amonese, state giocando nelle ripartenze, avete fatto anche il gol, quindi di conseguenza poi il gioco doveva fare l'Amonese. Tu a un certo punto hai detto anche ai tuoi compagni saliamo perché stiamo concedendo troppo. Beh sì, perché comunque noi stiamo lavorando da poco rispetto alle altre squadre. Anche tutta la squadra al completo, tra virgolette, ci stiamo lavorando da 10 giorni. Quindi dobbiamo ancora prendere i ritmi, dobbiamo prendere ancora la fiducia nei nostri mezzi che sono alti. Quindi dobbiamo dare di più, dare di più, soprattutto all'inizio quando le squadre andranno sempre a 3.000 contro di noi. Quindi ho provato un po' a spronarli. Infatti quando appena ci siamo messi meglio e iniziavamo a prenderli più alti sono arrivati anche i gol. Il tuo ritorno se ne è parlato, tu ovviamente è contentissimo, la piazza è contenta. La Nurese vuole tornare nei professionisti. Beh, l'obiettivo è quello di stare nei piani alti della classifica. Troppo presto parlare di vittoria del campionato perché ci sono tante squadre ben organizzate. Sicuramente anche la nostra lo è e faremo di tutto per provarci. Il primo gol dedicato ai tifosi che avete anche poi ringraziato a fine gara. Sì, assolutamente sì, il primo gol dedicato ai tifosi. Ma soprattutto a mio padre perché non veniva a vedere una partita da tanto e quindi è giusto adagliare a lui. Senti, questo primo periodo com'è una squadra che è stata costruita velocemente, state cercando un'amalgama rapido e ovviamente le vittorie aiutano. Il primo periodo sicuramente adesso è tosto perché comunque dobbiamo lavorare più degli altri. Non ci fermiamo mai, anche domani ci alleneremo per appunto trovare sempre più sintonia con i compagni, tra i reparti e tutto quanto. Però queste vittorie sicuramente aiutano a darci morale e iniziare bene il campionato. Il campionato alle porte è una grande sfida. Subito derby, subito con una compagine che lotterà anche per le prime posizioni. Sarà una bellissima partita. Speriamo di portare a casa i tre punti. Dobbiamo stare molto attenti perché ci hanno giocato di grandissima qualità. Parliamo della tè dolce ovviamente. Assolutamente sì. Comunque complimenti Giuseppe per la gara, per la vittoria, per tutti e un baccalupo per il campionato. Speriamo bene. Grazie.